Un'altra edizione record per il mercato internazionale di Arezzo, affollato come sempre da retini, gente proveniente dalla provincia, turisti italiani e stranieri. Oltre 300 gli espositori provenienti da tutto il mondo che hanno interessato l'area Eden e due grandi piazze del centro storico. La stima di ConfCommerce è di circa 300.000 persone che hanno vissuto l'esperienza del gusto ad Arezzo approfittando dei tanti eventi collaterali come la visita guidata al Museo archeologico di Arezzo, il programma domenica che è stata un successo sopra ogni aspettativa, dimostrazione che il gusto può andare a braccetto con la cultura, tantissimi infatti visitatori che si sono addentrati nella parte sotterranea dell'anfiteatro romano insieme alle guide di ConfCommercio. Anche il meteo è stato benevolo, un caldo sole autunnale ha scandito tutte le fasi del mercatissimo che si pone per il quindicesimo anno consecutivo alla ribalta dell'iniziativa retine. A conferma del successo in termini di presenza i numeri del parcheggio multipiano mecenate, mai pieno come in questa edizione a detta dei dirigenti Atam. Il prossimo appuntamento è fissato al 9 ottobre 2020 per un altro viaggio nelle strade di Arezzo da cittadini del mondo.